Dal libro Altri Attimi, su Amazon o su il mio libro, Giovanni Bogani. Mia madre è nata l'8 maggio 1923 a Capri. Noi li immaginiamo in bianco e nero quei giorni, quegli anni. Invece erano a colori, forse persino più vividi dei nostri. Il colore del mare, quello del cielo, quelli dei fiori. L'8 maggio 1923 è stato 100 anni dal giorno in cui è nata mia mamma. Lei non c'è stata a festeggiarli. Se ne è andata il 24 marzo 2015. E nonostante fosse anziana, se ne è andata all'improvviso. La mattina ancora protestava, non voleva essere portata all'ospedale. Mentre io ero con lei nella sala del pronto soccorso, stavo parlando con la dottoressa, stavo dicendo quando era nata. In quel momento stavo pensando a Capri, a un mattino di maggio del 1923. E in quel momento l'infermiera, che la teneva in braccio, interruppe la dottoressa, che non c'era più battito. Quel giorno, dopo, ho iniziato a scrivere un libro su di lei. Un libro fatto di piccole fotografie della memoria. Ho cercato di raccogliere uno dopo l'altro i ricordi che avevo. Ne è nato un libro, ancora un attimo per favore. Chi lo legge può trovarci un po' di lei, delle parole che usava, della vita di mia madre. E può trovarci anche l'infanzia di un ragazzino, negli anni settanta. E poi vent'anni di un ragazzo negli anni ottanta. E insomma, stranamente, miracolosamente, quel libro è fiorito. Ogni ricordo ne tirava dentro un altro, ogni attimo ne richiamava un altro. Sono affiorate come fotografie dalla bacinella del liquido di sviluppo. E sono affiorati i miei nonni, il quartiere di Rifredi, le bombe della guerra, le vacanze a Viareggio, i film che ho visto da bambino, gli Aristogatti e James Bond. Insomma, quel libro è diventato un mondo. E come tutti i mondi, mi è stato difficile capire dove finisse. Perciò, appena ho finito, ho continuato a esplorarlo. A respirarlo, a dissotterrare ricordi, a vedere fiorire immagini. Ed è nato altri attimi. È il mio regalo di Natale, quello che ho cercato di fare a mia madre e a tutti voi che vorrete leggerlo. Grazie. 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 Grazie.